La nostra presidenza è iniziata proprio con un richiamo a questi temi, con la celebrazione di Digital Venice, quindi sostanzialmente con un richiamo forte al digitale e quindi all'innovazione e subito dopo è stata nominata il nuovo direttore generale che ha tre anni di tempo, quindi sostanzialmente un'altra spinta verso una strutturazione più forte del settore dell'innovazione, del settore di legislazione e di recente è stato anche nominato il Digital Champion Riccardo Luna. Ora con tutte le forze in campo sarà possibile proseguire a livello nazionale quello che è stato accennato, è stato subito a livello europeo già dal Presidente Rezzi e dalla Commissaria Cross quando appunto a luglio si è dato il via con la dichiarazione di Venezia a questo processo. Riteniamo che questo sia un strumento di miglioramento per il Paese, uno strumento di miglioramento per l'Europa e sicuramente il Governo italiano desidera essere all'avanguardia in questo tipo di processo.